In questo momento è fondamentale per noi contribuire insieme a tutte le istituzioni, in particolare insieme agli amministratori locali e sindaci a gestire questa fase, quindi nessuna polemica, solo lavoro di sostanza attraverso questi tre decreti che si stanno configurando anche a livello nazionale, l'obiettivo è quello di sostenere al massimo possibile famiglie, imprese e amministratori locali che stanno gestendo una situazione oggettivamente inedita per tutti noi, quindi il senso anche dell'iniziativa di oggi è di dire che ci siamo e continueremo questi impegni, il Parlamento, il Governo, il Governo e ovviamente in ogni istituzione, anche territoriale. Una rete trasversale a tutti i livelli di fatto? Sì, io penso che di fronte a questa emergenza particolare serve la massima responsabilità da parte di tutti, a volte capita che ci siano polemiche rispetto a dichiarazioni fuori posto ma questo non è il tempo di esacerbare questo fronte, è il tempo invece di fare un lavoro unitario e credo che tutti dobbiamo sentirci responsabili da questo punto di vista.